Amare l'arte significa che essa e il suo messaggio debbano essere più importanti della legge? Secondo me è un po' più complicato. Parliamone. La scorsa settimana vi ho segnalato un video che narrava dell'installazione non autorizzata su suolo fiorentino di un'opera d'arte. Mi è capitato di riflettere a lungo sulle implicazioni di questo gesto e sono arrivato alla conclusione che la questione è più complessa di quanto sembri. In questo video ci saranno ovviamente degli spoiler quindi vi consiglio di guardare prima quel video e poi questo. Inoltre quando avevo fatto il video sull'opera d'arte invisibile, sulla scultura invisibile, in uno dei commenti più interessanti mi era stato fatto notare che se io parlo di libertà del linguaggio dell'arte contemporanea poi non dovrei porre limiti ad essa. Non dovrei porre limiti a questa libertà. A quel commento io sostanzialmente avevo risposto che libertà non vuol dire anarchia ed è un concetto che voglio riprendere in questo caso perché mi sembra interessante e adatto proprio a questa situazione. Partiamo dai fatti di cosa parla il video di Emalloro. Emalloro intanto è un videomaker, un registro, un counter creator molto bravo ed anche molto seguito che incentra la sua narrazione sullo storytelling. Quando vuole fare un video su un argomento non si limita a parlare di quell'argomento ma costruisce attorno una storia dentro la quale inserisce le sue emozioni, i suoi pensieri, le sue considerazioni e narra tutto alternando la voce fuoricampo con spezzoni parlati in presa diretta durante le riprese. A tutto questo poi aggiunge musiche molto azzeccate, molto adatte e anche delle riprese professionali. È un montaggio fatto a regola d'arte e il risultato è un contenuto di qualità ottima che ha spesso moltissimo successo. Nel suo ultimo video che si intitola Arte illegale racconta di come ha voluto instaurare un rapporto con un artista contemporaneo che si occupa principalmente di street art. Va a conoscere questo artista, si presenta e gli chiede di seguirlo per capire quali sono le dinamiche che stanno sotto il lavoro di un artista contemporaneo. Il fatto che poi questo video sia girato a Firenze che è la città in cui quest'artista opera, lavora e vive rende tutto più magico perché Firenze ha un'eredità artistica pesante, quindi c'è da un lato questo passato artistico che incombe sul video, questa eredità pesante, e dall'altro lato invece la volontà di continuare a fare arte e di portare avanti l'idea che l'arte non può e non deve fermarsi perché non deve avere paura dell'eredità del passato, anche in una città importante come Firenze. Tornando al video quindi Amaloru passa del tempo con quest'artista, cerca di capirne le dinamiche, vede come lavora, lo segue in città, a un certo punto c'è una svolta narrativa perché l'artista quando ormai si fida di lui gli rivela che sa per fare qualcosa di particolare ovvero ha intenzione di installare senza autorizzazione da parte del comune una sua scultura su un ponte di Firenze. Sento che te lo posso dire, volevo rimontare l'uomo comune. In realtà la vuole installare di nuovo perché questa scultura era già stata installata ed era stata rimossa dal comune di Firenze sempre perché non c'era stata l'autorizzazione e l'artista si era pure beccato una denuncia che poi era diventata anche penale, una multa e c'è stato un processo dietro. Chi è questa artista? Si chiama Clet Abraham, conosciuto maggiormente come Clet, opera e lavora a Firenze ma è di origine francese e a Firenze ha il suo studio dove lavora e dove si possono anche acquistare alcune delle sue creazioni. E' molto famoso perché, anche se non so se è stato lui a inventarla questa cosa, applica degli stickers ai segnali stradali principalmente e li trasforma in vignette che, oltre ad essere molto divertenti, diventano anche una narrazione, raccontano qualcosa. E' un tipo di arte veloce, agile, riproducibile ed è quel tipo di arte che viene verso di te, non devi essere tu ad andare a cercarla perché, un po' come tutta la street art, te la ritrovi magari quando non te lo aspetti in giro proprio per la strada. La vicenda di questa scultura installata e poi tolta dal comune è in realtà molto lunga, ha praticamente più di dieci anni. Io non ho voluto andare a studiarla nei minimi dettagli, non mi sono letto le carte del processo perché non mi sembrava utile per quello che dobbiamo dire in questo video. Comunque per non lasciarvi del tutto spaisati vi dico che quest'opera è stata collocata da Clet, sempre senza autorizzazioni, per quattro volte e per tre volte è stata rimorsa dal comune. Ora è ancora sul ponte dopo l'ultima volta che è stata installata, che è quella che poi viene ripresa dal video di Ema Loro. Dopo la seconda collocazione Clet è stato denunciato anche penalmente, gli è stata fatta una multa di 10.000 euro e gli è stata contestata la violazione paesaggistica, quindi una cosa anche abbastanza pesante. A marzo del 2020 c'è stato il processo di appello e da questo processo lui comunque è stato assolto. In ogni caso c'è stata... Guardando il video di Ema Loro non si può fare a meno di stare dalla parte dell'artista, di partecipare emotivamente per lui e per la riuscita del suo progetto. Nel video tra l'altro viene data molta enfasi a quest'azione perché il video è costruito veramente molto bene, cioè addirittura si trasmette quasi la paura dell'arrivo della polizia che possa bloccare tutto il processo, quindi si è emotivamente molto coinvolti e naturalmente si sta dalla parte dell'artista. Ammesso però che ci sia qualcuno che sia contro l'artista, perché non è così scontata questa cosa. Perché il video potrebbe farti pensare in questo caso che la legge sia un po' cattivella, ottusa, un po' antiquata. Attenzione non sto dicendo che Ema Loro avanza la tesi che la legge sia sbagliata, assolutamente no. Lui non si pronuncia, fa solo il suo lavoro e documenta tutto questo processo. Però dalle emozioni trasmesse è naturale, viene naturale stare dalla parte dell'arte, dalla parte di questa scultura e di questa installazione. E infatti tutti i commenti che poi ho letto sia su YouTube che su Instagram sono tutti entusiasti a favore di questa installazione e sono tutti a favore dell'artista e del suo modo di agire. Io però ho guardato il video dall'ottica di chi studia ed ama tutta l'arte in generale senza sensazionalismi e di chi sa che in fondo l'arte, la disciplina è stata sempre normata fin dai tempi dell'antica e Grecia. Quindi c'è stato sempre un connubio tra arte e legge, anche se questa cosa è un po' brutta da ammettere per chi fa arte. Ma in realtà le due cose non hanno, non sono mai entrate realmente in guerra, tranne in alcuni periodi storici. Soprattutto il rapporto tra un'opera d'arte e il suo territorio è stato spesso oggetto di leggi e di discipline e per fortuna, aggiungo io. Quindi a un certo punto mi sono chiesto che il comune la prima volta l'ha rimosso perché non poteva fare altrimenti, ma poi perché non ha dato l'autorizzazione tutto sommato a quest'opera? Visto che secondo me comunque gli estremi c'erano? E qui poi si svela l'arcano. In realtà l'autorizzazione non è mai stata data perché Klett non l'ha mai richiesta. Nel video è l'artista stesso che spiega il suo punto di vista creativo e dice esplicitamente che quest'opera non può essere autorizzata perché altrimenti verrebbe meno parte del suo valore. Quindi lui non ha intenzione di chiedere l'autorizzazione per installarla, deve essere installata senza autorizzazione. L'uomo comune rappresenta un passo libero e se tu vai a chiedere l'autorizzazione di fare questo passo libero non è più un passo libero. Quindi io non posso, proprio non posso chiederla questa autorizzazione, non posso chiedere il permesso e se chiedo il permesso finisce tutto il senso dell'opera. Deve essere montato per forza in questo modo qua. A questo punto però a me la faccenda sembra più complicata di quanto non apparisse inizialmente. Perché in gioco c'è l'arte, la libertà di espressione, i sentimenti, la legge, le emozioni, il buonsenso. Insomma è un vero casino. E adesso vi chiedo chi ha ragione? L'artista o il comune? E perché? Quando si parla di leggi che anche solo teoricamente vanno contro la libertà di espressione che è un valore universale ormai talmente affermato in noi che è ritenuto assolutamente inviolabile, giustamente, si ha sempre la prima reazione spontanea e naturale di andar contro questa legge, di disobbedire, perché è una legge ingiusta. Esiste però anche un rovescio della medaglia. Capita sempre più spesso che quando una legge non piaccia a qualcuno perché lede degli interessi o delle abitudini acquisite, si fa in modo da presentarla alla maggioranza della popolazione come una legge liberticida, in modo tale da sollevare un po' la popolazione contro essa. E non sto parlando di fantascienza, scienza. Questa cosa l'abbiamo vista ultimamente tantissimo con i no mask che addirittura hanno parlato di dittatura sanitaria. La questione quindi è seria. In questo caso con chi dobbiamo stare? Con l'artista che legittimamente fa il suo lavoro e lo fa come ritiene opportuno farlo o con il comune che altrettanto legittimamente fa il suo lavoro e lo fa rispettando le leggi che deve rispettare? Da quale parte dobbiamo stare? Dalla parte dell'emotività o della razionalità? Esiste un punto di incontro fra le due cose? Ci sono delle cose da considerare e dalle quali non possiamo prescindere se vogliamo farci un'idea chiara e seria. La prima è che la persona in questione è un artista. Ovvero noi possiamo prendere in considerazione tutta l'intera vicenda perché abbiamo di fronte una persona che è un artista affermato come tale e riconosciuto come tale e che vive di arte, che ha e che sviluppa un suo linguaggio e una sua idea. Non è una persona comune. Il suo gesto illegale vale la pena di essere analizzato perché è frutto di un disegno artistico, di un pensiero ed ha una dignità artistica. Se installare un'opera abusiva fosse stato un non artista non avrebbe avuto senso neanche minimamente parlarne. Questo cosa significa? Che la legge deve fare eccezioni nei confronti degli artisti? No. La legge e legge deve fare il suo corso con tutti. Perché la legge è uguale per tutti. E anche con Klett infatti ha fatto il suo corso. Ci sono stati vari gradi di giudizio. Quello che è diverso è che in questo caso la critica può e deve occuparsi della questione. Cosa che invece avrebbe dovuto assolutamente non fare se ad installare l'opera fosse stato un non artista. C'è una persona che non aveva nulla di artistico da dire e che non aveva fatto un percorso artistico. Insomma se compi un gesto illegale perché vuoi apparire come un artista ma non lo sei devi essere sanzionato e basta e la critica non si deve occupare di te. Se invece sei un artista la legge deve fare il suo corso, la critica deve occuparsi di ciò di cui si occupa, cioè dell'aspetto artistico della vicenda. La seconda questione da considerare è che ogni volta che si fa qualcosa di illegale in nome dell'arte si deve considerare anche che si crea un precedente che può essere potenzialmente molto pericoloso. Soprattutto se in nome dell'arte difendiamo la legittimità di un gesto illegale. Perché si apre la strada a tutti coloro i quali aspettano solo una scusa per compiere azioni illegali ammantandole col velo dell'arte che fa sempre figo. E il fatto che esistano persone che sono pronte ad utilizzare la scusa dell'arte per portare avanti proprie idee in modo tra l'altro illegale è una questione che esiste, che è pericolosa e che va a nuocere l'arte stessa, non solo la legalità. Insomma sminuisce profondamente l'arte e l'arte è chiamata a difendersi da questi impostori. E guardate che non sto parlando di timori teorici, queste cose accadono realmente. Nel 2007, e me lo ricordo come se fossi ieri perché mi sono incazzato tantissimo, un signore di nome Graziano Cecchini svuotò un secchio di vernice rossa nella fontana di Trevi che in pochissimi secondi si colorò completamente di rosso con un effetto scenico molto prepotente. E questo signore proclamò che la sua azione era un'azione artistica perché non era per nulla autorizzata dal comune. Il problema però è che molte cose da subito non tornavano. Il problema principale è che Graziano Cecchini non è un artista, non ha un percorso artistico riconosciuto come tale dalla critica ed è una di quelle persone che compie delle azioni e poi cerca di giustificarle adducendo come motivazione principale il fatto che queste azioni facciano parte dell'arte. Quindi cerca di dare dignità artistica a quello che fa. Di lui sappiamo anche altre cose. Inizialmente faceva parte del movimento sociale italiano e poi passò a Forza Nuova, proprio nel periodo in cui compì questo gesto. Quindi gravita attorno all'area del fascismo. Fra l'altro, e non è un caso, con una banalità anche disarmante, proclamò che il suo era un gesto futurista e che lui faceva parte di una corrente artistica chiamata vandalismo. Il problema però è che non esiste alcun movimento vandalista riconosciuto realmente come tale e poi un altro problema è anche che non ha più alcun senso definirsi oggi, dopo cento anni, dei futuristi. Visto che è cambiato completamente il contesto storico e che nulla di quell'esperienza è ormai rimasta. Stiamo parlando di una cosa completamente passata che ha senso collocare nella storia, non rispolverare oggi perché fa comodo. Insomma Cecchini aveva fatto una paraculata enorme spacciandola per arte e poi in seguito disse che la sua era anche una protesta nei confronti dell'amministrazione di centro-sinistra del comune di Roma e della festa del cinema. Sapete allora chi giustificò quel gesto dandogli anche forza? Casa Pound e Sgarbi. Che strano. Sempre Cecchini poi nel 2008, l'anno successivo, fece rotolare per la scalinata di Trinità dei Monti, che è quella che poi finisce a Piazza di Spagna a Roma, mezzo milione di palline di plastica colorate, sempre senza autorizzazione e sempre dicendo che era arte. E nel 2017 colorò, un'altra volta di rosso, la fontana di Trevi. Attenzione, se Cecchini avesse detto che il suo era un gesto politico, tutta la vicenda avrebbe assunto un significato completamente diverso. E il fatto di aver chiamato in causa l'arte, quindi nobilitando il gesto, che rende tutto più complicato e rende la situazione molto più grave. Insomma queste persone esistono e se si fa passare il concetto che qualsiasi cosa illegale possa essere giustificata in nome dell'arte, dobbiamo aspettarci che ci sia qualcuno che ne approfitti semplicemente per far passare le proprie idee e dobbiamo stare attenti perché queste persone potrebbero seriamente danneggiare il nostro patrimonio artistico e in ogni caso inquinano pesantemente il dibattito critico e artistico. Nino Strano, che purtroppo è il mio concittadino, nel 2008 era senatore della Repubblica e quando cadde il governo Prodi, lui dentro l'aula, quindi dentro il senato, dentro l'istituzione, festeggiò questo avvenimento tirando fuori della mortadella e mangiandola platealmente davanti a tutti. E a chi gli fece notare che quel gesto era comunque irrispettoso non di Prodi, ma dell'istituzione del senato, lui disse semplicemente che si trattava di un'allegoria e di un gesto futurista. Quindi capite quanta potenziale paraculagine rischiamo, sediamo il via libera a chiunque, di utilizzare la carta ama e arte quando si fa qualcosa di illegale o di immorale. Le vicende di Klett e di Cecchini sono ovviamente agli antipodi. Klett è un artista, Cecchini no. Per questo ha senso riflettere sul gesto di Klett, mentre Cecchini non merita alcuna riflessione. Però appunto ha senso riflettere sul gesto di Klett e non dire che a priori ha fatto bene il nome dell'arte. Sul suo sito Klett parla della sua opera e in un post che ne annuncia ritorno la definisce l'alternativa indispensabile all'arte istituzionale. Ma quale sarebbe questa arte istituzionale? A me sembra un po' troppo enfatica come dichiarazione. E poi in un lungo post scritto agli inizi del marzo del 2020, qualche giorno prima della sentenza del processo di appello nel quale comunque sarebbe stato assolto, lui espone le sue ragioni, condivisibili o meno. Io ne condivido alcune e non ne condivido altre. Vi cito il passaggio col quale non sono d'accordo. Mi si rimprovera che se si lascia fare a me, dopo c'è il rischio che tutti si sentono invitati a fare come gli pare. Come se fosse la peggiore delle sciagure. Ma perché il fatto che tutti possano fare come gli pare dovrebbe per forza essere un male in sé e non piuttosto un bene? Anzi, non vedo quale altro obiettivo migliore si possa auspicare per l'intera società se no la libertà di essere come meglio desidera. Perché libertà non vuol dire caos, ma piuttosto responsabilità, consapevolezza e considerazione dell'altro. Ecco, io purtroppo non riesco ad avere l'ottimismo sia chiaro, legittimo, che acclette. E non riesco neanche a ragionare come un artista, visto che non sono artista, ma sono una persona che ama l'arte nella sua totalità e vuole preservarla. E ne ha al cuore il destino e il suo sviluppo. Non riesco a non pensare che il rischio reale, che tutti si sentono invitati a fare un po' come gli pare, non porti al caos invece che alla libertà. Una libertà responsabile e consapevole. Mi dispiace, ma i segnali che mi dà l'umanità intera, proprio quell'uomo comune che poi è anche il titolo dell'opera di Klett, non vanno verso la responsabilità collettiva e non vanno neanche verso la consapevolezza. Forse in futuro le cose cambieranno, ma per il momento per me è pericoloso creare dei precedenti e sarebbe altrettanto pericoloso che le istituzioni non applicassero la legge in nome dell'arte o facessero delle eccezioni per essa. Anche perché poi non spetta alle istituzioni legislative o giudiziarie stabilire cosa sia o cosa non sia arte contemporanea. Questa cosa spetta ai critici. Per l'arte non contemporanea il discorso è meno complicato. Alla fine quindi come uscirne? L'opera di Klett dovrebbe essere nuovamente rimossa? Per me no. Ormai per me non andrebbe più rimossa. Sulla base della considerazione che la vicenda ha ormai dieci anni è che l'opera si è storicizzata e contestualizzata. L'opera ha instaurato un rapporto con l'ambiente, è stata riconosciuta come opera d'arte tra l'altro in questo caso anche dal tribunale, se ne è parlato molto, ha favorito un dibattito artistico e quindi anche una crescita culturale e non ultima come cosa importante, pare che comunque ai cittadini piaccia molto e questa cosa non va sottovalutata. Insomma l'opera d'arte anche se non ha rispettato le regole si è ormai guadagnata un suo valore e questa cosa non può essere più ignorata. Per questo quindi per me va lasciata. Il fatto è che per me però va lasciata secondo le giuste regole, cioè quelle che non piacciono acclette, quelle che anche per me sono brutte ma necessarie. Cioè il comune secondo me dovrebbe prendere atto di tutte le cose che ho elencato e autorizzare formalmente che quell'opera rimanga lì dov'è. E quale sarebbe la conseguenza? Beh quell'opera non sarebbe più un'opera d'arte illegale e di conseguenza forse non riuscirebbe più a trasmettere il significato che voleva dare acclette. Quindi paradossalmente l'artista stesso potrebbe non essere d'accordo, però qui c'è un nuovo elemento in questo caso. Ricordiamoci di cosa diceva Massimo Troisine il postino. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. E questo principio vale anche per l'arte. Se un'opera d'arte diventa un valore e un bene condiviso, se diventa quasi un patrimonio di tutti, è come se acquisisse una vita propria e da quel momento in poi non è più solo dell'artista, che quindi non può decidere da solo cosa farne. Al netto ovviamente, e questo lo so, delle questioni proprio meramente legate alla proprietà. Se il comune insomma decidesse di lasciare lì l'opera con un atto formale e legale, a quel punto Clett cosa dovrebbe fare? Si aprirebbe ovviamente un nuovo capitolo e ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, ma mi fermo per ora qui. E vi rifaccio la domanda iniziale. Di nuovo vi chiedo, chi ha ragione? L'artista o il comune? E perché? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti o anche in qualche messaggio privato.